In quest'anno ci sono state parecchie novità. Ringraziamo gli amici di Hobby Media nella figura di Massimo Belfiore rappresentante, che quest'anno ha voluto essere presente, l'amico Paolo Prento di Dust, Ambition, gli amici di Ambition, ogni anno noi ci diamo un pezzo d'Ambition, io vorrei però che questa cosa la dicesse Emanuele Appaccotto, qui per di noi, grazie, è un pezzo particolare, sicuramente molto amico. Il premio si chiama Fate il modellismo, non fate la guerra, di Francesco Ciccio, con il nione. Ma noi vogliamo sapere da te, cioè le pantofoline con Cheroro, tutti particolari, ma come ti sono venuti in mente questa creatività? Siccome Cheroro è un fan di Gundam, perché Gundam non deve essere un fan di Cheroro? È decisamente Ambition, bravo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no! No, 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 no! No, no! Emanuele! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 迷いながら悩みながら悔やみながら決めればいいさ 君がくれた言葉ひとつ戸惑いは消え去り 空っぽだった僕の部屋に光が射した 見上げた大空があのブルー 澄み切ってゆく 閉ざした窓を開くこと決めた 自分を世界さえも耐えてしまえそうな 瞬間はいつもすぐそばに 満たせぬ日常に あるはずの答えを 探して 探して 朝日に一人 柔らかな声に振り向けば 眩い日差しの中 ふと君が微笑む 閉ざした窓が 閉ざした窓が開きそうになる 自分を 世界さえも変えてしまえそうな 存在は僕の目の前に 見上げた大空が 君が自分たり 人生だった 君が好きだった 君が好きだった 君がお伝えしたい 人生の一年が 何年も 何年も もっとも アブチョン アブチョン キカリエボトゥー No, 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 no.